Due provvedimenti di rigetto per altrettante richieste relativi a progetti di realizzazione di impianti per la produzione di biometano da biomasse agricole e zootecniche. Il dirigente comunale Emanuele Tucci, il referente dello sportello swap Carmelo Di Bartolo e tecnici del settore sviluppo economico hanno valutato le due proposte avanzate da aziende interessate ad avviare impianti con processo anerobico. Sono stati rilasciati i rigetti perché i progetti non rispettano alcune delle condizioni previste dalla disciplina in materia. Il no è arrivato sia per l'impianto proposto dalla Terrax sia per quello della Biomedi SRL. Nel primo caso il sistema per lo sfruttamento delle biomasse sarebbe dovuto sorgere in contrada già quinti. Il progetto della Biomedi invece era in programma in un'area di contrada feudonobile. Le motivazioni che hanno portato a respingere le richieste autorizzative sono sostanzialmente uguali per entrambi i procedimenti. Tra questo è il fatto che si preveda un rapporto di copertura pari ad un trentesimo, il 41% dell'area di proprietà proposta per l'insediamento. In contrasto con quanto stabilito dalla legge 19 del 2020 che prevede invece un rapporto massimo pari a un decimo, il 10% per impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, si legge negli atti. Anche sulle dimensioni dei digestori sono state sollevate contestazioni dagli uffici comunali. I progetti prevedono impianti di biometano attraverso compostaggio e partendo dalle biomasse agricole e zootecniche. Il provvedimento unico di rigetto è stato rilasciato dopo la verifica delle carte progettuali e delle caratteristiche dei sistemi che non sono state ritenute conformi. Pareri contrari sono stati rilasciati anche dal settore urbanistica del municipio. Pareri sono stati rilasciato dopo la verifica delle знаTI.